il prima di il volto, il salto, ogni tipo di salto, devi correre per quanto riguarda possibile. Questa è la prima cosa più importante. Per questo motivo, quanto riguarda il vostro ruolo? Voi? Più o meno? 20 metri? 70? Il vostro ruolo? Non lo so. Questo è un altro... Oh! 24, 57. 24, 8. 24, 8. È un buon ruolo. Ma la prima cosa importante è che il gimnato sempre ha la stessa ruolo. Ma perché hanno bisogno di ruolo sempre in la stessa forma, per la velocità maximale. E' importante che in ogni quale dove vengono, trovano il buon ruolo. Come ho visto prima, voglio vedere, come i giorni e il giorno prima, che in ogni giorno, 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 è molto difficile trovare una buona ruolo. se hanno la stessa ruolo, se hanno la stessa ruolo, ok, 80 metri, 50 metri, non lo so, non è importante, ma è sempre la stessa. e quando iniziare con la destra o la destra. Qual è il problema qui? Non ci sono metri. Ok. Allora, ci sono metri. Un sistema potrebbe essere da 25-25 metri. E se hanno 20 centimetri, uno, due, tre, quattro, quattro, e sappiano che da questo punto è vero. E in questo caso, potrebbero pensare sulle ruolo, non sulle ruolo, se è vero o non, se si ruolo veloce, veloce, veloce. Questo è il primo e l'importante cosa quando iniziare un trening o andare in un gioco in diversi gioco. come è possibile trovare una ruola se non hai metri. Ok. Questa è una soluzione. Questa è un punto. in questo punto. Inizia con la 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 Ok, sei fortunato, finisci, hai trovato il tuo ruolo. Se arrivi sul sping ball con la lega falsa, ok, dal stesso punto, inizia con l'altra lega. Non con la lega, ma con la lega. Questo è il passaggio corretto, magari un po' lungo o un po' lungo. E riuscire un piede avanti e un piede avanti. Il massimo di tre ruoli puoi trovare il tuo ruolo corretto. Questo è il sistema. Il secondo sistema è di avere in bagno i metri. No problemi. Ok, questo per me è la prima cosa importante per il ruolo. Perché tutte le persone pensano di double twist, Yurchenko, Kazamatsu, Roche. Ma bisogna riuscire, prima. E dopo, vedremo, dopo di riuscire, cosa dobbiamo fare. sulle ruolo. Ok. Pensate sul primo ruolo, magari dopo. Voglio cominciare con il salto tipo Kazamatsu. o Zuccahara, Kazamatsu. Perché per me è un po' più difficile. per il risultato di fare il risultato. Inoltre, invece, se lo vedremo, ci sono così molte persone che performano questo tipo di salto. Quindi, è possibile che sia più facile da fare questo tipo di salto. Ma abbiamo bisogno di avere un po' più tempo per capire questo tipo di salto. Ci sono due differenti. Perché Kazamatsu? Perché Yurchenko? Prima ci si apia del servo ruolo. Quindi, quel ruolo ruolo, surname laitanza, ne situato, bravo il suo ruolo ruolo. Nel negozio ruolo ruolo. Cosa ruolo da professore il servo ruolo dalla ac怎麼zata da useda Ma lascia ruolo da vergessen. Questa è la zucara, fermati, hop, e vai giù, casamatsu, fai, turno e vai di schiena, hop, e giù casamatsu. Naturalmente, se pensiamo sulle torse, sulle lateralità di ogni gymnasta, normalmente, se facciamo il ruolo, o il ruolo, sull'altra parte, sull'altra parte, turno sull'altra parte. Se non, se alcune volte vedo che il gymnasta, non so perché, ma si apprezzano il ruolo, sull'altra parte del ruolo, questo è molto difficile per fare un casamatsu. In questo caso, devi fare zucara e turno sull'altra parte, ma è più difficile. Quindi, per questo motivo, fai attenzione, quando si comincia a insegnare il ruolo di gymnasta, per il ruolo di gymnasta, perché il ruolo di gymnasta è il primo elemento che si apprezzano. e la loro lateralità è la parte o la parte o la parte. Se la parte o la parte, ricordate, perché tutto il ruolo di gymnasta, non solo sul ruolo, ma sul ruolo, sull'altra parte, sull'altra parte, sull'altra parte, sull'altra parte. Ricordate, sul ruolo di gymnasta, è la stessa parte. Questo è importante, perché dopo, quando si iniziano, per esempio, in questo caso, insegnare il ruolo di gymnasta sul ruolo, come è possibile? Al contrario, non è un problema. Nel ruolo di gymnasta è possibile. Per questo motivo, mi preferisco iniziare non con Zucara, ma iniziare passo per passo, come è possibile insegnare il casamatsu. Siamo dicendo che il ruolo comincia dal ruolo di gymnasta. Perfetto. Il ruolo di gymnasta. Ok. Vedete il ruolo di gymnasta con la seconda mano? In questo caso è facile, perché il centro di gravità è direttamente sull'altra mano. Quindi è possibile creare il ruolo di gymnasta quando il corpo è in una posizione verticale. Il primo ruolo di gymnasta è iniziato a capire la velocità. Il primo ruolo di gymnasta è iniziato a capire la velocità. Il primo ruolo di gymnasta è iniziato a capire la velocità. Il ruolo di gymnasta è iniziato a capire la velocità. Il ruolo di gymnasta è iniziato a capire la velocità. Se è possibile, la velocità è iniziato a capire la velocità. La velocità è iniziato a capire. Dopo il ruolo di gymnasta, come abbiamo detto prima, il corpo si torna nel stesso ruolo di gymnasta. In questo caso, quando finisce il ruolo di gymnasta con la seconda mano, arrivi. e si torna in questa parte. E si può fare il salto in una posizione normale. Ok? Up. It's important that the shoulder go down, because when pushing, before, down the legs, up shoulder. down shoulder, up leg. After the vertical position. Not before. If you image when gymnasts arrive on the board. This angle. And pushing before the vertical position. What's happening? That, on the contrary, turn too early. Or bend the legs, or out of the right direction. And stop all the speed of running. It's important to go over and then pushing. Ok? Up. Up. One. Two. And three. But with one hand. Just one hand. From here. Up. Up. And down. And keep this body in very good shape. This is important because normally the gymnast think directly to turn for the twist. No. Down. This movement with the arms is not correct. But we need now to spend a little time to turn and then make a salto forward. down. 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 Very quickly turn. Out. Out. This is wrong. But because you think about the salto, no. No more. You've seen? Punito. Up. Ok. 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 Cartwheel with pushing. Up. Ok. Perfetto. In this case, you must think about a little bit much more speed and pushing much more for going up to the mat. In this case. Follow the same line. Fai. Volta spinta. Mezzo giro. E il salto vai sopra. Quello che ho fatto prima. Hop. And. Ok. Step by step. Maybe you can use without springboard after we will see. And then connect the two parts. Carwheel. Pushing. Turn. Waiting the turn. And salto forward. I would like to see also. Step by step. Not only rotation. But when I arrive here. With leg. Up. Up. And. Ah. Just a little bit better. Up. And. Ok. More or less. This is. Casamato. Half turn. And salto. Arrive. With no much more. Speed. Pushing. Not so bad. But. No speed. In the first part. In this case. It's. He needs. More speed. In the first part. In the first part. For. More. Pushing. To go up. And. After weight. For the salto. Now. We are running. But. Other step. More speed. More pushing. Up. Salto. And. Finish. With the casamatsu. Totta di casamatsu. Ah. Ok. We will see. Yeah. So. With. This system. It's possible. To. To pay attention. To every part. Of the salto. Without. Running. Without. Springboard. Or. Try. Try again. On. On a real world. But. When. Start. Ok. After. You can put. When. Springboard. Or. Two. Springboard. One mat. After. And so. In this case. Oblige. The. The gymnast. To have. Much more speed. For pushing. Much more. With the second hand. And so. And so. And so. And so. Mm. With. With. Trampoline. Because. It's easy. For the first. For the first flight. But. To put. One hand. No. Two. And. But. One hand. The first one. Yes. Start. Start. Low position. Just. One hand. Oblige. The gymnast. To wait. Throw. And wait. Stand. In one line. One more time. One other. Low. And. Okay. Hop. Yes. It. Just. For. For. For him. Think. To stay. In one line. No move. No. Put too early. No push too early. Well. We. Now we put. The trampoline. Because. It's easy. For the. But. If you want. You can. Put. Just. Springboard. And. Low. The. The board. By. Yes. See. Stay. One. Position. Put. No problem. Wait. And. Turn. This is a good system. For. Understand. And. Wait. For. For. The second part. Because of the gymnast. Think. Always. Salto. Twist. And. So. And. So. This kind of. System. With. Two. Two. Mets. You can. Remake. All. That. We are made. Here. Also. With. The running. We see. I saw. The. French guys. French. you. Yes. No. 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 I. Don't want. A. Roundoff. And. Salto. On. You. Are. You are. Strong. And. No. No problem. But. Step by. step you can you can understand the gymnast can understand what he must to do up before to make all the old salto all salto that now is arrived in your moment no because here is a good jumper yeah sure if you want a it's possible I've turned and salto forward okay now I ask him to perform casamazo I've turned and salto forward just a simple start to forward yeah okay so step by step how is possible to start from the cartwheel arrive to front handspring there that's a match with 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 twist there's no problem but we can arrive not easy but in easy way long time but in this way